ho saltato il fosso ho scavalcato il tempo ho accettato la sfida l'ho provocata attraverserò cruentemente il campo nemico facendogli credere chissà che cosa per poi trascinarli tutti quanti fin dove ci porterà questo sogno non ancora sognato questo agguato mi espanderò in questi spazi pieni di comicità disperazione delicatezza e disprezzo entrerò nelle latrine di questo tempio scoppiato con la mia solitudine con la mia fiamma e tenderò e scardinerò queste strutture in fuga totale verso non si sa dove le sue linee curve i suoi piani le sue sfere mentre tutti da ogni parte se ne stanno fermi su un piano che non esiste su un filo di tempo che non esiste attorno alle loro tavole apparecchiate fisse i piatti al loro posto le posate i bicchieri anche si solleva da terra niente si muove che trema qui invece tutto vibra e vibrerà i bicchieri sbattono l'uno contro l'altro fin quasi a spezzarsi vanno in pezzi contro i miei denti quando me li porto alle labbra per brindare sul lavoragine di questo inizio posto dentro un inizio le posate si spostano a ondate sulle tovaglie le afferro con la mano nell'aria nello spazio le pareti si spalancano da tutte le parti i lampadari si inventano orbite nuove sopra le nostre teste in fusione in fiore mentre diamo inizio a questo pranzo di nozze e a questo sisma sono seduto io a capotavola questa volta per la prima volta mi fissano da tutte le parti quelle testoline sfocate mentre ogni cosa non riesce più a stare dentro se stessa e prende vita tutta la macchina si accende si riaccende tutti gli occhi girati verso di me mentre dentro il suo scarponcino il mio piede vibra a sua volta sotto il piano del tavolo sbatte contro le gambe delle sedie manda in frantumi i tacchi degli invitati di cristallo li guardo a mia volta con i miei occhi bruciati tutta la mia persona trema in questi spazi strappati per azzardo per sogno venuta da un altro mondo da tutt'altro mondo io salgo dalle zone negate allontanate io sono la voce che non ha mai parlato il mio scrigno non è ancora stato sconvolato è inviolato sono inclinato barbaricamente dentro lo spazio seduto sul mio sfintere come altri prima di me sui loro scroti dorati sulle loro fiche ispirate dammi o musa le forze cieche indistinte per andare avanti in questa poltiglia increata spalanca di fronte a mai i tuoi specchi accoglimi nel tuo sbrego oceanico cieco nella tua polpa molle piena di bagliori benvenuti nel primo special cogito oggi un viaggio fra death stranding e i canti del caos di antonio moresco ma come sempre prima la sigla sei su daily cogito il podcast di rick du fer e chi non lo ascolta è cibo per gli zombie canti del caos un'opera straordinaria incredibile che ha segnato molto la mia esperienza con la letteratura e death stranding un videogioco apparentemente molto distante dalla letteratura in realtà un gioco letterario un gioco filosofico e io giocando a death stranding ho visto all'interno di quella storia tantissimi spunti legati a questa grande opera di antonio moresco i canti del caos opera che in realtà è parte di una trilogia trilogia che comincia con gli esordi opera minore direi però comunque se uno poi ama i canti del caos dovrà recuperarsi anche gli esordi comunque se uno vuole leggere i canti del caos parta dai canti del caos poi il secondo capitolo è i canti del caos a sua volta diviso in tre libri e poi c'è gli increati la trilogia si conclude con questa opera che in parte per me è stata una delusione devo ammetterlo però sicuramente la parte centrale di questa opera straordinaria che a mio parere come vedremo insomma durante questo questa live sperimentale strana potrebbe essere l'unica opera di letteratura italiana forse addirittura europea che verrà studiata a scuola fra qualche centinaio d'anni di nuovo cercherò di giustificare questa affermazione molto forte i canti del caos è sicuramente la parte centrale quella significativa l'opera di una vita di questo scrittore antonio moresco mantovano che io ho incontrato anche di persone infatti ho la fortuna di aver la copia autografata l'ho incontrato ci ho accennato insieme l'ho anche presentato a schio per appunto i canti del caos è stata un'esperienza fantastica conoscerlo il canti del caos è una di quelle opere di una vita perché perché è un piccolo uomo un fragile uomo che a un certo punto esplode in questa visione incredibile ci ha messo vent'anni per scrivere questo libro e dentro c'è veramente un testamento che cercheremo un po di sviscerare insieme in effetti è un'opera e questo è importante dirlo rifiutata da moltissimi rifiutata nel senso che infastidisce è un'opera pornografica è un'opera estremamente caustica è un'opera che non parla a noi contemporanei è quella che gil de l'es avrebbe definito così un'opera che parla ai popoli a venire ed è un'opera che guarda molto molto avanti talmente avanti da descriverci uno spazio che non c'è ancora uno spazio che guarda molto in là nel tempo talmente avanti nel tempo che insomma vedrete vedrete seguite fino in fondo è un libro che mi ha ridato speranza mi ha ridato speranza sulla letteratura contemporanea perché non è uno di quei libri per abbattini di talento è un'opera secolare è un'opera che appare una volta ogni molto molto tempo ed è importante che in un'epoca così povera di letteratura alta di letteratura ambiziosa nascano opere di questo tipo forse è sempre avvenuto in effetti le opere che ricordiamo dei secoli passati sono poche rispetto a ciò che si scriveva e la stessa cosa avviene oggi forse in proporzioni ancora diverse il titolo stesso è un gioco un'ironia i canti del caos il caos l'informe il gettato il privo di significato il canto invece il canto è una forma pura una una forma appollinea qualcosa di ordinato qualcosa di ritmato e quindi i canti del caos questa sorta di ossimoro che ci getta subito in un interesse particolare ed è la stessa cosa per death stranding anche death stranding è un dittico di concetti fra loro in parte contraddittori perché da un lato abbiamo la morte abbiamo quindi il caos la morte il disordine la sperdutezza del significato e quindi il nostro lasciarci andare a qualsiasi distruzione di struttura e stranding che in inglese significa spiaggiamento da un lato ma anche cordatura anche filamento e il filamento è ciò che ci tiene uniti la morte ciò che ci toglie qualsiasi possibile comunicazione quindi anche lì abbiamo un gioco che va in contrasto death stranding è un gioco uscito nel 2019 ideato da hideo kojima che è stato il creatore anche della saga di metal gear solid che io non ho mai giocato io non ho mai giocato a metal gear solid però mi è capitato di giocare a questo perché ho visto alcuni gameplay di sabaku e mi sono detto forse questo vale la pena di tentarlo e per fortuna l'ho fatto per fortuna è stata un'esperienza particolare anche qui una esperienza ambiziosa filosoficamente talmente ambiziosa da essere quasi sfrenata ed eccessiva sì perché death stranding proprio come i canti del caos è un'opera eccessiva voglio dire sono mille sono mille 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 cento pagine più altre mille trecento degli increati più altre quattrocento anzi seicento degli esordi capite bene questa trilogia definirla minimalista è decisamente un rischio grosso e la stessa cosa vale per death stranding un'opera che si prende i suoi tempi d'altra parte il fastidio che un contemporaneo può provare nei confronti di quella logorrea è una prova fondamentale perché non puoi avere genio senza qualcosa che ti infastidisce e può essere nei contenuti ciò che ti infastidisce può essere anche nella forma hideo kojima come antonio moresco è un genio e hanno prodotto opere che vanno al di là del piacere che possono dare i canti del caos è un'opera che uno può odiare detestare e ritenere irrinunciabile death stranding è un'opera che può farti male stancarti infastidirti con me l'ha fatto in modo abbastanza forte e verace eppure non ti puoi permettere di 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 non considerarlo un capolavoro è un capolavoro ed è forse fra quelli che ho giocato insieme a pochi altri il videogioco che può ambire meglio di qualunque altro ad arrivare una definizione di arte perché si death stranding rischia di arrivare a questo dico rischia perché l'arte è sempre un rischio ovviamente questa non sarà una live di soli parallelismi tranquilli non voglio soltanto fare parallelismi provate a vivere questa live o indifferita se la state seguendo indifferita in tre modi diversi potete vivere questo special cogito come una lunga recensione letteraria e videoludica e ci saranno gli elementi anche della recensione potete viverla come una sorta di saggio critico su queste opere e quindi analizzare i linguaggi la forma e capire qual è il loro valore ma il modo migliore secondo me è vederlo come una sorta di saggio filosofico in streaming questo sì questa è una bella novità e prendetela come volete per me è un po tutte queste tre cose ora prima di iniziare con la nostra disquisizione saluto la chat che ho già salutato nel pre live siete già in tanti sono molto contento fede c'è già qualche domanda per caso che hai adocchiato no non ancora non ancora e allora direi che possiamo partire possiamo partiamo con il primo capitolo la live è strutturata in questo modo io adesso inizierò il primo capitolo abbiamo strutturato la disquisizione in cinque capitoli ogni capitolo inizia con una lettura e delle immagini del videogioco se non volete spoiler da death trending io lascerò a zero il più possibile gli spoiler soprattutto al videogioco i canti del caos è impossibile spoiler spoilerarlo e capirete anche perché però se proprio volete stare a zero di spoiler non guardate le immagini durante la lettura è questo poi tranquilli anche le immagini non dicono troppo però se proprio uno vuole starsene distante da qualsiasi rischio allora è meglio non guardare le immagini e partiamo con il primo capitolo fermi che vado alla pagina della lettura e se mi emozionerò durante la lettura è perché questa è un'opera emozionante capitolo 1 la nascita non so ancora dove sono chi sono capisco solo che mi trovo ancora dentro qualcosa che mi contiene che sarò sempre dentro qualcosa che mi contiene mi è ancora dato per un po di sentire che sono e sarò sempre dentro qualcosa che mi contiene senza neppure saperlo senza sentirlo perché se lo sapessi e sentissi sarei già separato vivrei l'illusione di essere separato mentre nulla e nessuno è veramente mai separato qui dentro a quale altro corpo più grande sono attaccato io sono la scheggia prima di questa esplosione e di questa visione sono il piccolo corpo che contiene dentro di sé tutta l'enormità di questa visione e dell'annuncio di questa visione sto respirando per l'ultima volta questa miscela di liquido amniotico e aria il mio piccolo corpo sta ancora ricevendo sangue ossigenato proveniente dalla placenta attraverso la vena dell'ombelico mi preparo a sfasciare con la mia piccola testa il sacco amniotico in cui galleggio sfonderò col proiettile redentivo della mia testa il sacco amniotico che mi contiene provocando il fiotto d'uscita dell'acqua mi svellerò dal corpo più grande quando verrà tranciato il budello pieno di sangue dell'ombelico sentirò l'urto dell'atmosfera irrompere per la prima volta nei miei polmoni ancora allagati di liquido amniotico e sangue ascolterò l'onda d'urto del mio primo grido respiratorio in questo nuovo spazio tempo che si è creato estirperò ad un sol colpo le ultime terminazioni nervose che mi collegano al cervello del corpo più grande che mi contiene laccererò le ultime ragnatele di vene che mi tengono ancora inglobato irromperò a testa in giù nella poltiglia prenatale di questa visione conficcherò la poltiglia prenatale della mia visione dentro la poltiglia prenatale di questa visione mi lascerò alle spalle la zona amniotica di questa visione per sprofondare nella placenta esterna della visione piomberò qui dentro da qui dentro col mio piccolo corpo ricoperto di muco di sangue attraverserò cruentemente il corpo dell'interfaccia che mi contiene per interfacciare l'altro corpo più grande di questa visione libererò qui dentro il primo grido polmonare della visione porterò il mio prenatale silenzio dentro il silenzio prenatale di questa visione mi collocherò nella cuspide prenatale di questo annuncio e della visione di questo annuncio porterò la visione di questo annuncio nella poltiglia redentiva di questa transazione e di questo annuncio sarò la configurazione stessa di questo annuncio che irrompe nella catastrofe inaugurale di questo annuncio porterò il tempo e lo spazio di questo annuncio nella voragine rovesciata di questo annuncio irromperò da qui dentro nel la fuori che c'è qui dentro invaderò con la mia scheggia vivente tutto all'utero rovesciato della visione il bolide redentivo della mia testa penetrerà esplosivamente nell'uovo stesso della visione il tuorlo del mio corpo esploderà nell'albume della visione l'uovo della visione esploderà dentro l'uovo atmosferico della visione mentre me ne starò ancora con gli occhi chiusi sigillati imbastiti nella poltiglia cieca della visione nella massa tumorale della visione raramente ho letto una parte letteraria che descrive in questo modo viscerale la nascita qui moresco descrive la nascita che non è mai veramente una nascita perché non è mai il rapporto fra un dentro e un fuori perché ogni fuori è già un dentro e il corpo a cui siamo attaccati certamente ce lo lasciamo alle spalle ma solo per attaccarci a un corpo ancora più grande e ancora più grande la nascita nei canti del caos e in death stranding è qualcosa di molto molto particolare e vorrei discutere con voi usando queste due opere il rapporto fra nascere e morire una falsa ambiguità una falsa dicotomia perché nella visione degli autori che analizziamo ideo kojima e antonio moresco nascere e morire sono al tempo stesso falsificazioni che non esistono e sono esattamente la stessa cosa nei canti del caos quest'opera su cui poi magari spendo alcune parole intorno alla trama ma veramente non è la trama la cosa che importa nei canti del caos moresco ci dice una cosa difficile da accettare che noi viviamo dentro un cosmo che a sua volta sempre dentro un cosmo l'uovo che sta dentro un uovo la rottura del guscio che ci porta un altro tuorlo a un altro guscio e via dicendo questa ciclicità del tempo dello spazio è qualcosa che nei canti del caos continua a ripetersi richiamandosi ovviamente a tanta filosofia ci viene in mente l'eterno ritorno di niccia che poi incontreremo di nuovo ci vengono in mente le concezioni del tempo ciclico dell'antichità greca rotta poi dalla linearità del tempo che il cristianesimo immette nella nostra cultura e moresco ci riporta indietro afferma che non c'è un inizio una fine così come non c'è un dentro e un fuori e quando tu nasci o muori stai soltanto entrando in una nuova dimensione è impossibile uscire non c'è possibilità di uscire e questo accade perché in questa trilogia moresco afferma un concetto che sembra molto distante dalla nostra sensibilità il tempo e lo spazio sono increati non a caso la trilogia che tiene gli esordi canti del caos e gli increati si intitola trilogia dell'increato l'increazione è ciò che si contrappone al falso concetto di creazione perché moresco dice una cosa che in realtà nella filosofia ha trovato molta fortuna l'atto di creazione è un atto di separazione e se avete mantenuto alta l'attenzione durante la lettura di questo primo capitolo vi sarete accorti che a un certo punto moresco dice non ci si può separare non c'è separazione nascere non significa separarsi significa riconnettersi significa entrare in una sorta di cerchio concentrico ancora più ampio e sempre più ampio ed esistere significa rompere ogni volta quella piccola barriera che ci porta a nascere e rinascere e rinascere l'atto di creazione è di per sé una separazione è il dio creatore che creando il mondo lo getta fuori di sé è il creatore del cristianesimo dell'ebraismo che guarda dal di fuori il mondo che se ne è separato che lo osserva come un robottino un animale una sua creazione il tempo e lo spazio non sono creati perché noi siamo nel tempo nello spazio una dimensione molto particolare e se uniamo a questo fatto l'idea precedentemente affermata cioè che è impossibile uscire da qui perché non c'è un fuori beh già vediamo delinearsi nei canti del caos un'idea che su daily cogito molto spesso abbiamo incontrato cioè l'idea del panteismo spinoziano perché è impossibile uscire perché l'increato ci rende impossibile trovare una dimensione di fuori rispetto a quello che stiamo vivendo e neanche la morte è uscire da qualcosa perché dio in realtà è il mondo stesso e dal momento che dio non ha creato il mondo ma è il mondo non se ne è separato il grande la grande teologia spinoziana l'ontologia spinoziana ci porta a dire che deus si ve natura cioè dio corrisponde alla natura e se dio corrisponde alla natura significa due cose uno non puoi stare al di fuori della natura e nella natura ci sono anche il tempo e lo spazio in un modo molto molto particolare e in secondo luogo dio non si è separato dalla natura non c'è un atto di creazione ma se vogliamo un atto di espressione dio si esprime nella natura che è increata in quanto dio è increato in effetti quando spinoza critica cartesio per il suo dualismo fra res cogitans e res extensa dirà una cosa che è molto more schiana dirà ma come posso esserci due sostanze dal momento che dio non può separarsi da se stesso noi non possiamo separarci non siamo mai separati all'atto della nascita non siamo mai separati da alcunché all'atto della morte nascita e morte sono un atto corrispondente e questo in death stranding viene raccontato in modo molto potente infatti il death stranding che è questo evento questo cataclisma che fa collimare il regno dei vivi e il regno dei morti e qui voglio dire una cosa importante tutta questa opera cioè gli increati inizia con il collimare del mondo dei vivi e del mondo dei morti purtroppo non posso inserire questa opera nella disquisizione di questa serie perché sennò durerebbe 12 ore non è il caso magari lo riprenderemo se vi piacerà questo approfondimento in un prossimo dei licogito e un prossimo approfondimento ma il punto è che il death stranding è questo evento cataclismatico in cui per ragioni ancora semi sconosciute il mondo dei vivi e il mondo dei morti collidono creando delle esplosioni delle voragini quindi delle catastrofi incredibili il death stranding è la riapertura del sentiero sempre esistito fra vivi e morti anche in death stranding non c'è separazione fra vita e morte fra nascita e di partita e la vita in death stranding non è quella cosa che noi tutti ogni tanto pensiamo che sia cioè un'isola che emerge casualmente in un oceano di inesistenza se andiamo a leggere tantissimi autori tantissimi autori di filosofia la vita molto spesso è questa questa immersione dall'inorganico emerge la complessità dell'organico e della vita e la vita è destinata a ri immettersi nell'oceano nel fiume dell'inorganico in death stranding la vita e la morte sono connessi in modo un po diverso perché vita e morte sono letteralmente un cambio di frequenza in effetti in death stranding questa peraltro costruzione immaginifica geniale e quando io ho cominciato a giocare a death stranding mi sono detto ma come ha fatto questo tizio a pensare a queste cose a mettere insieme queste cose e quindi l'originalità sicuramente non manca né ai canti del caos né a death stranding dicevo c'è questa rete chirale che si produce grazie al chiralium questa sorta di di materiale sconosciuto prima del death stranding perché prima di quell'avvenimento non si era manifestato nella natura e nelle diverse frequenze della rete chirale si possono osservare fenomeni legati al mondo dei morti ovviamente dal punto di vista di chi è in vita i morti sono letteralmente un altro piano nello stesso mondo siamo tutti nello stesso mondo e non è un caso infatti che in death stranding questo concetto venga restituito restituito con la dualità fra materia e antimateria ora death stranding dal punto di vista scientifico spara qualche panzana importante ma è ovvio dobbiamo sospendere la nostra incredulità e entrare un po nella finzione perché questo ci permette di traghettarci in concetti utili è come se mondo dei vivi mondo dei morti coesistendo non si fossero mai incontrati esattamente come il rapporto si dice nel gioco fra materia e antimateria mild stranding manifesta questo rapporto e quando il mondo dei vivi attraverso una delle cia cioè queste creature che sono delle anime che tentano di ritornare nel mondo dei vivi incontra un vivo accade un'esplosione un'esplosione che ricorda quella del big bang e che ricorda quella ovviamente dell'apocalisse il rapporto fra vita e morta fra nascita e di partita quindi è il frutto di uno squilibrio e questo mi ricorda tantissimo l'inizio di dark souls cosa che si all'inizio di dark souls beh che in realtà tutto quanto nasce dalla disparità nel momento in cui nell'universo freddo e morto nasce una fiamma ecco che nasce lo squilibrio la vita l'esistenza il mondo nasce da uno squilibrio e in quello squilibrio si inizia a porre i primi passi in queste due grandi straordinarie avventure bene e abbiamo terminato il primo capitolo ok sono sono già morti fede sono già totalmente annichiliti no sono molto presi sono molto presi beh sono contento io mi sento già un po ubriaco per questa cosa quindi bene 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 ok allora vediamo un po c'è qualche domanda abbiamo beccato qualche domanda vai fede c'è una domanda da parte di marcus che ti chiede rispetto a questo discorso della nascita e a death stranding ti senti più vicino al rapporto con bb che a sam porter oppure quello che manifesta dead man sempre con bb allora marcus sta parlando del bb personaggio di cui poi parleremo che sono questi bridge babies cioè dei bambini neonati che sono stati strappati alle madri in coma e a causa di questa vicinanza di nascita e morte di nuovo vedete il tema si il tema ritorna il bb riesce ad avere una maggior un maggior contatto con il mondo dei morti però il bb viene trattato come una macchina infatti dead man che peraltro nel videogioco impersonato da guillermo del toro dead man è convinto che il bb sia letteralmente una un aggeggio un odradec avrebbe detto kafka sam porter invece si affeziona al bb ovviamente il gioco ti fa l'occhiolino ti dice guarda bb è tutto caruccio è giusto affezionarci sì certamente le ragioni di di dead man ci sono quindi io parteggio per il rapporto affettivo che sam porter bridges sviluppa nei confronti di del suo bb pur riconoscendo il fatto che come dice dead man è un grave rischio in primo luogo perché non c'è nessuna prova che queste queste entità abbiano un'autocoscienza in secondo luogo perché in realtà il loro vero mondo è quello dei morti e quindi sono vivi in prestito e questo è un concetto molto interessante però ovviamente molto molto infatti i bb funzionano con l'odradec bravissimo bravissima michelle giustissimo l'odradec è l'aggeggio che si accende quando il bb scopre che ci sono delle ca intorno la seconda domanda vai viola raviola che chiede a proposito dell'idea dell'emergere fuori da un corpo e del rapporto tra mondo dei vivi e mondo dei morti mi vengono in mente il tuo il racconto il confine quello che scritto tu e dall'altra alcuni passaggi del signore degli anelli beh intanto ti ringrazio molto per 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 la citazione io ovviamente mi sono già dimenticato di aver scritto quel racconto come come giusto che sia e in realtà no ti dirò il parallelismo c'è ora non posso dire che scrivendo il confine che se qualcuno vuole lo trovate nei racconti della vera nuova carne la raccolta di racconti horror che ho scritto e illustrati da arianna l'idea è molto simile e in effetti nel racconto a un certo punto si dice una cosa del tipo considerare i morti come solo morti è una cazzata ragazzi sul signore degli anelli sì ci sono anche dei richiami lì ti dirò di più leggendo i canti del caos io non posso non vedere delle influenze straordinarie di alcuni concetti tolkeniani non so quanto quanto siano volontari però i richiami ci sono indubbiamente quindi insomma bene però sono molto contento che siate belli vivi io mi sto divertendo molto quindi direi di continuare che dici fede andiamo avanti andiamo avanti col secondo capitolo allora aspetta un attimo che tiro fuori lo script perché io ovviamente se dovessi ricordarmi tutta sta roba imploderei allora il secondo capitolo parla del tempo andiamo avanti con le pagine siamo siamo qui ok un'altra citazione bella bella interessante tenetevi forte ragazzi sembrerà di usare dei funghetti sì ciao fide e quindi capitolo 2 il tempo io sono ancora e fin dall'inizio qui dentro però non sono qui dentro chi sono dove sono in quale regno mi trovo sono ancora là dove ho cominciato ma adesso il la non è più la il qui dentro non è più qui si è spostato non si può neanche ritornare all'inizio per farsi strumento della potenza creata della ripetizione della duplicazione perché nel frattempo anche l'inizio è stato spostato non è più all'inizio questo è un inizio che scavalca all'incontrario l'inizio forse tutto quanto è successo qui dentro è avvenuto solo perché nessuno potesse arrivare a scrivere quest'opera che non c'è che sia io quello che non la scriverà io sono lo scrittore increato che è tutto al mondo alla fine che c'è prima ancora dell'inizio e su questo pianeta immobilizzato oltrepassato e venduto e che sta fronteggiando la fine della sua stessa specie e la divaricazione di specie faccio ancora parte di questa specie ma sto già scrivendo per un'altra specie che ancora non c'è non si sa ancora se c'è ci sarà dove sarà finito adesso questo libro increato ci sarà mai chi non lo scriverà forse tutto quello che ha preso vita e che ha imperversato qui dentro è accaduto nella frazione di un istante nel mio cervello sotterraneo disattivato e increato questo libro non esiste è increato nessun libro così è mai stato scritto né potrà mai essere scritto io ho avuto solo la fortuna di venire investito un istante prima di cominciare sono lo scrittore increato che da molti anni si stava preparando all'avvento di un'opera mai vista prima come l'avrei intitolata qualcosa come canti del caos mi pare l'altra notte poco prima di coricarmi sono uscito a camminare guardare le luci nelle strade non ho visto niente non ho capito niente devo essere stato investito da una macchina mentre camminavo e fantasticavo sarà rimasta sul mio tavolo quella pila disordinata di fogli di appunti scarabocchiati per strada oppure svegliandomi di soprassalto in piena notte cercando tentoni la birro sul comodino nel buio nessuno riuscirà a capirci qualcosa a decifrarli tantomeno a scorgerne le proiezioni le incarnazioni io sono lo scrittore increato l'inconcepito sto morendo all'incontrario all'indietro senza essere nato e neppure concepito sta uscendo dal progetto dal primo sguardo dalla materia oceanica molle scatenata e creata ma allora chi sono dove sono sono dentro la solitudine infinita dell'inizio che c'è prima dopo ogni possibile inizio sono l'inconcepito che deve passare all'incontrario attraverso la propria vita e la propria morte e prova tutta la solitudine infinita di un corpo che muore separato inconcepito e increato sono solo completamente solo come si è infinitamente soli all'inizio sono solo come mai è stato nessun altro scrittore di questa specie sono lo scrittore di un pianeta e di un mondo che non c'è più di una specie che non c'è più che non c'è ancora sto vivendo da inconcepito la solitudine infinita di un corpo che si percepisce separato mentre è ancora increato sono l'inconcepito che nascerà prima di essere concepito e che sta morendo senza essere nato sono dentro la cruna dello spazio tempo immobilizzato e increato con il mio popolo inconcepito che sta forzando i cardini fissi della nascita della morte creata sono nella zona smisurata e increata che c'è tra il concepito e l'inconcepito prima ancora che sia inconcepito la sto allargando a dismisura col proiettile redentivo della mia testa che preme per irrompere nell'increato voi non avete idea di che cosa sta succedendo qui dentro nel prima dopo voi non sapete che enorme movimento ressurrettivo di morti è in atto in questo istante un istante prima che ci sia questo istante credete che la causa siano i cambiamenti climatici la saturazione di gas serra nell'atmosfera lo scioglimento dei ghiacci e l'innalzamento degli oceani e dei mari su questo piccolo pianeta oltrepassato e venduto a determinare queste mutazioni planetarie epocali e invece sono i corpi sotterranei increati che hanno sentito l'annuncio che stanno smottando come una valanga ascensionale nel prima dopo il mio corpo morto increato è attraversato dal movimento ascensionale di tutto il fronte del mio popolo inconcepito che sta rovinando all'incontrario verso la catastrofe della resurrezione tutto il filo dell'orizzonte increato e le terre emerse e gli oceani con le loro correnti increate e le calotte artiche e antartiche ricoperte di ghiaccio vibrano e si si sciolgono e fondono per il rialzo termico sprigionato dei popoli dei corpi morti increati e da tutti gli spermatozoi e gli ovuli inconcepiti e increati che premono dal basso verso la resurrezione l'intero mondo increato è travolto dal sisma della resurrezione tutte le sue strutture chimiche e minerali e genetiche e i suoi tessuti vegetali umani animali che sono balenati per un istante con le loro forme qui dentro sono stati presi nel mantice dell'invenzione dell'increazione e della resurrezione non si esce dal tempo il cosmo è un uovo dentro un uovo uno sbrego dentro uno sbrego e l'atto di uscire dalla vita l'atto di uscire dall'esistenza non è l'atto di uscire dal tempo tutto quello che avete letto è una dichiarazione d'amore al panteismo questo che avete appena sentito è l'atto di dire ogni cosa è collegata ma in un modo in cui non è semplice dire ah la serendipità l'olismo no è molto di più perché quel collegamento crea smottamento e la catastrofe non è che generata dall'atto stesso di esistenza di tutto quello che sta insieme nei canti del caos la scoperta che il protagonista anzi i protagonisti fanno perché poi il narratore cambia di volta in volta durante il libro la scoperta è che il tempo è immobile è increato non trascorre l'idea che il tempo trascorra è semplicemente un'illusione una falsificazione la stessa falsificazione di chi crede che nascere e morire siano due cose diverse se nascere e morire sono due cose diverse allora il tempo è creato è immanente e si svolge come un filo dal punto a al punto z ma se invece la nascita e la morte l'inizio alla fine sono la stessa cosa allora il tempo è come una goccia d'ambra e qui non possiamo non vedere due grandi richiami letterari uno precedente uno successivo a questa idea espressa da moresco che non è espressa da moresco in realtà un'idea molto antica però un'idea che nella letteratura contemporanea ha avuto una qual certa fortuna da un lato infatti abbiamo i tralfamadoriani di kurt vonnegut che quando in mattatoio numero 5 altra opera straordinaria tutta diversa da questa e cioè sono 160 pagine molto molto più scorrevole tranquilli non è così anche se è pazza a sufficienza in quell'opera straordinaria billy pilgrim viaggiatore dello spazio tempo di uno spazio tempo increato direbbe moresco viaggia fino su tralfamador e su tralfamador incontra questi alieni strani che gli dicono una cosa molto molto interessante caro billy pilgrim no il tempo non è quello che pensi tu il tempo è come un gran canyon noi tutti siamo appostati nel tempo come insetti dentro le gocce d'ambra e guardiamo e visitiamo il tempo che è una dimensione dello spazio il tempo non si trasforma il tempo è immobile e tutto quello che è avvenuto è già avvenuto e avverrà di nuovo e di nuovo e l'altro richiamo è un'opera che abbiamo peraltro visto in diretta qui su twitch che è arrival tratta dallo straordinario racconto storie della tua vita di ted chang in questo racconto gli eptapodi di nuovo degli alieni perché sembra che l'essere umano debba scoprire cosa il tempo sembra perché lo insegnano gli alieni in moresco non è così è un'auto scoperta il che insomma è un po più positivo nei confronti della elucubrazione dell'umano cervello ecco gli eptapodi fanno scoprire alla scienziata protagonista di quel racconto che il tempo è una circolarità e che con il giusto linguaggio il giusto atteggiamento tu puoi persino ricordare quello che avverrà e perché puoi ricordare quello che avverrà perché la fine e l'inizio corrispondono perché non esiste nascita e morte e perché il tempo è immobile ma nei canti del caos c'è un'idea ancora più devastante ancora più straordinaria che poi sentirete perché ve la farò anche sentire il linguaggio proprio come in ted chang ma prima di ted chang riflette la nostra incapacità di afferrare la vastità del tempo infatti quando il protagonista dei canti del caos si rende conto di questa cosa e vive questa questa idea devastante che il tempo è immobile increato e non puoi uscirne da quel gran canyon non si può uscire non c'è confine da superare quando lo scopre si accorge che i suoi verbi sono insufficienti infatti a un certo punto leggendo i canti del caos accadrà una cosa strana troverete però senza che questo vi pesi sulla coscienza di lettori dei verbi strani dei futuri doppi sarà avverrà vedrà compirà insieme perché moresco si rende conto che tutto il nostro linguaggio è imperniato sull'idea che l'inizio e la fine siano cose diverse e quando scopre che in il linguaggio non basta più e si inventa nei canti del caos un tempo verbale un tempo verbale per descrivere le cose che avverranno non in questo ciclo ma nel prossimo ciclo quando il big crunch avrà compresso tutto quanto e si sarà riespanso di nuovo un linguaggio per raccontare l'universo successivo il tempo successivo il colpo di genio di livello dantesco di antonio moresco è quello di inventare un tempo verbale un tempo verbale che nel libro funziona al punto che la prima volta in cui l'ho letto quel tempo verbale non mi sono accorto non mi sono accorto di quello che stavo leggendo era talmente naturale che per descrivere tempi così dilatati eppure così fermi servisse quella costruzione verbale che mi sono me ne sono accorto dopo varie frasi mi sono fermato e detto aspetta un attimo ma cosa sta succedendo esattamente come la dottoressa banks in arrival parla la lingua degli eptapodi e si trova a ricordare cose che avverranno in futuro antonio moresco inventa un verbo per farti ricordare che il tempo è immobile per farti esprimere l'idea più inaccettabile della storia della specie umana che nascere e morire sono esattamente la stessa cosa e in death stranding accade una cosa molto simile anche in death stranding il tempo è esattamente come una goccia d'ambra infatti una delle scoperte legate al death stranding sono le spiagge che cosa è la spiaggia la spiaggia è letteralmente il punto di passaggio che l'essere umano deve deve in cui deve transitare l'individuo umano prima di recarsi nell'aldilà la spiaggia è un punto d'incontro fra il mondo dei vivi e il mondo dei morti e le spiagge per ognuno di noi sono diverse la spiaggia è laddove si vanno ad arenare le creature che di volta in volta popolano il mondo dei morti e ognuno di noi ha una sua spiaggia come se la spiaggia fosse un'emanazione come se fosse la luce in fondo al tunnel e le spiagge sono uguali per tutti noi scusatemi sono diverse per ognuno di noi ma in realtà sono molto molto simili perché in realtà sono ferme nel tempo e durante death stranding tante cose avvengono nella spiaggia che sono al di fuori del tempo per esempio in modi che eviterò di raccontare perché altrimenti rischierei lo spoiler però il protagonista sam porter bridges si trova a visitare le spiagge di qualcun altro e nelle spiagge di qualcun altro troverà cose incredibili si troverà nella prima guerra mondiale nella seconda guerra mondiale e anche in vietnam perché la spiaggia degli altri e la spiaggia di ognuno è ferma nel tempo ed è al tempo stesso la parte più intima della nostra esistenza la parte verso cui tutti dobbiamo transitare per poi passare all'altro mondo che non è l'altro mondo perché è lo stesso mondo su frequenze diverse l'idea potente di death stranding è che in realtà essendo che il tempo è immobile che il tempo è fermo siamo tutti contemporanei e non è un caso che padre e figlio in questo gioco facenti parti di epoche diverse molto distanti vivano da nemici e da alleati pur condividendo linee temporali che non sono linee ma sono qualcos'altro molto diverse e e sam si accorgerà che creazione e distruzione proprio come inizi e fine vita e morte nascita e morte sono concetti umani l'entità estintiva che si incontrerà nel corso del gioco lo spiegherà benissimo è un dualismo inesistente è un dualismo dovuto dovuto a un semplice fatto noi siamo limitati la nostra vita è troppo breve e essendo attaccati a questa vita in modo quasi irragionevole dobbiamo raccontarci che la distruzione la fine la morte sono cose diverse rispetto alla nascita l'inizio e la costruzione la creazione e questa è la menzogna più grande di tutte e torniamo alla chat come sta andando sono svenuti tutti no stanno molto bene bello se mi sembra di essere in doctor house tipo ti chiedo se i nostri pazienti sono ancora tutti a posto hanno il lupus abbiamo delle domande sì c'è emilia che ti chiede trovi che questa idea di tempo immobile nonché problemi del linguaggio vengano ripresi anche da adams nel secondo libro della guida galattica quando ci si trova nel ristorante in cui tutto è avvenuto in cui tutto deve ancora assolutamente assolutamente peraltro con un piglio satirico straordinario straordinario adams maestro in realtà in vari momenti della guida galattica questa è un'idea che viene espressa lui si è anche rifatto a un certo punto a mattatore numero 5 di vonne gut opera che conosceva bene e quindi ci sono proprio delle citazioni a tralfamador un po mascherate ma quindi si sia un'idea molto presente in quella straordinaria opera poi c'è jasmin 2000 che ti chiede ma dato tutto ciò non è cinismo allo stato puro è un virtuosismo di iper analisi concettuali dei meccanismi biologici biologici ed essenziali riconosco però il valore della riflessione in quanto umani l'iper analisi estremamente stimolante cioè cinica la visione dell'unione fra nascita e morte in realtà nella visione degli autori di moresco e di ideo kojima cinico è l'esatto opposto cinico è l'atteggiamento pragmatico di considerare il tempo come un trascorrere un uno scorrere da un punto di inizio a un punto di fine il cinismo è quello dal loro punto di vista io credo che non sia cinico questo basta guardare agli autori antichi quando parlavano del tempo ciclico in realtà il tempo ciclico è una visione naif è una visione molto ingenua del tempo è una visione che dà alla vita e ovviamente anche la perdita della vita un valore estremamente positivo molto cinico invece è la perdita della vita e quindi e quindi il cinico è foscolo quando parla del nulla eterno però ovviamente lì cosa vuoi è molto difficile dare un'attribuzione di cinismo a queste cose perché perché un po dipende da quello che vuoi vederci tu sono concetti che dal mio punto di vista esulano da etichette come cinismo ovvia dicendo quindi in realtà sono dal mio punto di vista vanno prese per quello che sono riflessioni senza un valore necessariamente morale che possono magari dare stimolare una discussione sulla natura della vita e dell'esistenza poi c'è un'ultima domanda di narki 93 che riprende una discussione che a quanto pare abbiamo fatto guardando il film arrival ok concepire la ferma ciclicità del tempo e l'inesorabile compimento di esso non sottovaluta il valore della vita come viene espresso questo libro come viene spesso questo nel nel libro i canti del caos allora no non è la vita che viene svalutata al massimo è la libertà al massimo è la capacità di distaccarsi da quel ciclo che in realtà quindi è totalmente predeterminato perché in realtà c'è una valorizzazione enorme della vita tra poco parleremo dell'eterno ritorno di nice ma pensa soltanto all'eterno ritorno di nice a quello che nice afferma quando quando scopre il meccanismo dell'eterno ritorno nice dice che quella è una dichiarazione d'amore alla vita perché in realtà se ogni istante è già accaduto e accadrà esattamente così infinite altre volte e io devo amare questo istante non posso sottrarmene non posso far sì che questo istante se ne vada lo vivrò ogni istante perduto per distrazione per malcontento per passività non è un istante perduto è un'eternità perduta l'eterno ritorno e la ciclicità del tempo è un'idea estremamente vivificante per quanto mi riguarda è anche stimolante desidera ogni istante come se quell'istante l'avessi già vissuto infinite volte ma ancora peggio come se dovessi viverlo infinite altre volte pensa l'ultima volta che hai fatto la cacca dura e ti ha fatto molto male pensa a quell'istante eternamente il fatto che mi sia venuto in mente questa metafora denota dei problemi quindi direi di chiudere le domande qua e andare avanti col prossimo capitolo non è una citazione del cacchio del caos potrebbe essere è un parto duro potrebbe esserlo andiamo avanti andiamo avanti quindi siamo al prossimo capitolo e il prossimo capitolo parla della del viaggio e delle connessioni e quindi fermi lì fatemi prendere la paginetta sapete cercare fra mille cento pagine è sempre un casino bene fede a dopo terzo capitolo il viaggio come faranno a girare le ruote se lo spazio è immobilizzato se il tempo è immobilizzato io sto qui immobile al mio posto di guida con le mie scarpe dalle solette zigrinate e i miei mezzi guanti mi sposto piano sull'asfalto che vibra per lo spaventoso spostamento percussivo di corpi mi sto dirigendo verso il luogo dove stanno convergendo tutti quanti qui dentro là nel prima dopo dove verrà dato l'annuncio che è stato già dato che lo sarà al termine di questa infinita rincorsa che ho cominciato fin dall'inizio da quello che poteva sembrare un inizio le mie ruote sono i perni che tengono fermo con il loro vorticoso ruotare lo spazio tempo immobilizzato la mia testa immobilizzata dietro il parabrezza immobilizzato sta portando il residuo della mia materia increata dentro la polpa del prima dopo nell'increato il residuo della travolgente materia increata del mondo sta tornando indietro andando a sbattere contro il mio cofano immobilizzato tutto il travolgente mondo increato sta andando a sbattere contro il cofano della mia testa increata che si è collocata fin dall'inizio nel prima dopo la città è ferma le strade sono nere increte i fari della mia auto illuminano uno dopo l'altro in croci deserti dai semafori spenti oppure dove si accendono e spengono luci gialle dei lampeggianti mentre mi sposto anch'io verso questo punto di non ritorno com'è grande questa città per essere ancora increata com'è deserta per essere tutta piena di polpa immobilizzata e increata tutto l'asfalto vibra sotto la valanga dei passi e dei corpi che si stanno dirigendo da ogni parte verso il punto dove verrà stato dato l'annuncio verrà stato dato l'annuncio quello che dicevo prima la creazione di questo verbo di questo tempo verbale strano i contorni dei palazzi e delle torri e le linee delle finestre e dei tetti sono sfocati per la massa percussiva dei corpi in marcia che li sposta fin dalle loro fondamenta sprofondate dentro la terra tutta piena di materia seminale che sarà che increerà il motore gira senza rumore le marce appena lubrificate entrano senza fare attrito perché ho fatto cambiare l'olio del motore e del cambio il volante ruota su se stesso come nell'acqua quando devo svoltare per imboccare un'altra strada deserta le ruote dai copertoni nuovi aderiscono perfettamente all'asfalto perché ho fatto fare anche la convergenza controllo i freni faccio partire due o tre schizzi d'acqua detersiva contro il parabrezza per controllare che il serbatoio che la contiene sia stato riempito perché dovrò liberare il vetro della materia organica che salirà improvvisamente dal basso dai corpi per poter continuare a penetrare per investimento nella polpa e nell'annuncio del mondo socchiudo gli occhi mi asciugo con le dita che spuntano dai mezzi guanti quelle lacrime che scendono quando si sbadiglia guidando da soli di notte nel prima dopo ecco scorgo là in fondo una prima figura che si sposta nella strada deserta camminando sul bordo del marciapiede provo due o tre volte i freni per vedere se inchiodano bene respiro a fondo da quanto tempo mi sto preparando a questo momento mi preparerò scorgo altre figure che si spostano barcollando per il sonno in mezzo alla strada segno che mi sto avvicinando sempre più al punto dove si sono dirigendo tutti quanti qui dentro dove verrà dato l'annuncio il passo di lato non giro neppure la testa per vedere che facciano non ho fretta tanto ci incontreremo ancora stanotte mi sto avvicinando al punto di massima condensazione di tempo e spazio dei corpi mi sto preparando a imperversare nel prima dopo il concetto di identità nei canti del caos si disperde completamente ed è il tema del viaggio ciò che lo fa disperdere l'identità nei canti del caos è dispersa in due modi nel primo la terza parte dei canti del caos disfa letteralmente qualsiasi linea di identità dei personaggi se qualcuno di un po' attento ha seguito le ultime due letture avete capito che il guidatore che sta parlando in questo caso è il guidatore che nella parte precedente lo scrittore dirà che investirà lo scrittore ho usato male i verbi ma solo perché i canti del caos mi mandano in confusione i futuri e i tempi verbali ma insomma ci siamo capiti l'identità viene completamente sfaldata in questo modo e in un secondo modo i canti sono il susseguirsi di personaggi stranissimi vi faccio soltanto un piccolo elenco dei personaggi che troverete leggendo i canti del caos tutta la storia è inframmezzata da canti letteralmente per esempio il canto dell'eiaculatore il canto del ginecologo spastico il canto della donna avvolta nella carta stagnola il canto del domatore il canto della principessa e poi il canto delle evacuatrici il canto dei divoratori il canto della donna amputata il canto della donna blindata e via dicendo e sono tutti personaggi che letteralmente come avrebbe detto deleuze sono personaggi concettuali che cercano di disfare le varie identità che il lettore cerca di trovare nei canti del caos per avere un appiglio e questi canti che dovrebbero essere la parte ordinata del titolo il canti del caos sono quelli che danno maggiore voce al caos al disfaccimento questo disfaccimento dell'identità porta con sé le idee di due filosofi che sul canale abbiamo già discusso varie volte uno è il appena citato gilles de leuze e lo vedremo poi con il concetto di rizoma e l'altro è schopenhauer schopenhauer arthur schopenhauer era convinto che in realtà l'unico modo per capire il mondo sia disfare il concetto di ego perché il concetto di ego porta con sé una serie di strutture razionali che portano a mascherare l'esperienza della realtà e schopenhauer leggendo i canti del caos sarebbe stato molto d'accordo e anzi gli sarebbe molto piaciuto giocare a death stranding perché lui era convinto che le dicotomie come vita e morte nascita e fine inizio e termine distruzione e creazione fossero delle costruzioni intellettuali delle falsificazioni e che alla base di tutto stesse quella polpa ribollente che il nostro guidatore dei canti del caos ha così ben descritto quella polpa increata che è esattamente la volontà in schopenhauer questa forza anarchica che ribolle e che disfa tutto sempre e qualsiasi cosa ci convinciamo di aver riconosciuto del mondo fidati la volontà arriva e te la fa a pezzettini death stranding allo stesso modo di canti del caos parla del viaggio e parla delle connessioni come il tentativo di superare il concetto di identità e di ego in effetti death stranding c'è una vera e propria teoria dello stato sì perché dopo il death stranding gli stati uniti si sono disintegrati e ora ci sono le uca united cities of america le quali però sono tutte disconnesse e il lavoro che deve fare sam porter bridges questo corriere di amazon che non è amazon ma è la bridges è collegare le città portando dei pacchi perché questo alla fine è la storia che devi svolgere avevo timore che fosse un gameplay molto ripetitivo in realtà è avvincente portare pacchi non che la mia vocazione sia fare il corriere lo ammetto è fare quello che sto facendo adesso però è stato molto interessante c'è una vera e propria teoria dello stato in questo perché l'america si costituisce non come voleva obs nel tentativo di difenderci dallo stato di natura che ci porterebbe tutti alla guerra totale del tutti contro tutti homo homini lupus in realtà in death stranding la teoria dello stato è molto più vicina a quella di locke lo stato è l'insieme degli atti cooperative degli esseri umani i quali riconoscendo un proprio singolo interesse e obiettivo cooperano con gli altri sapendo di non poterlo raggiungere in autonomia e quindi nasce lo stato come amplificazione dei diritti e delle libertà individuali e quando siamo disconnessi in realtà abbiamo soltanto i nostri piccoli talenti con cui possiamo fare poco in connessione con gli altri invece possiamo fare molto di più e quindi da un lato abbiamo nella teoria dello stato di locke e di death stranding da un lato abbiamo il fatto delle connessioni che superano in virtù e in utilità i singoli obiettivi degli individui ma in secondo luogo funzionano solo perché danno agli individui ciò che essi cercano cioè la commercio del corriere la cooperazione la reti chirale via dicendo quindi lo stato in death stranding nasce non per ideologia ma si fonda sul commercio letteralmente il commercio non il commercio semplicemente di merci ma il commercio della cooperazione l'atto di poter comunicare con te e di poter unire le forze per trovare ognuno di noi il proprio utile e obiettivo ma torniamo ai canti del caos nei canti del caos l'inettitudine del narratore che sapete è una cosa che a me cioè io non ce la faccio più io a leggere protagonisti inetti anti eroi mi sono un po' rotto le palle perché è una narrazione che ormai da 150 anni ha fatto un po il suo tempo però l'inettitudine del narratore nei canti del caos è totalmente diversa perché il narratore dei canti del caos deve invocare la musa perché in questo libro c'è l'invocazione della musa l'abbiamo letta all'inizio il brano con cui ho aperto questa live era l'invocazione alla musa è un pezzo straordinario e meraviglioso e ce ne sono altre due tre invocazioni alla musa la musa poi anche un personaggio nel libro è letteralmente una prostituta che deve ispirare lo scrittore e ispirarlo ovviamente con l'atto sessuale che è la metafora dell'atto creativo arrivando anche a pagine che the sad levate proprio di nuovo se siete pur di cuore non vi piacciono tanto le cose un po spinte i canti del caos è un libro che o non fa per voi oppure potrebbe aprirvi a una buona letteratura erotica di quelle proprio serie però dicevo l'inettitudine del narratore è originale nei canti del caos perché la stessa inettitudine dei narratori antichi di quelli di omero dell'iliade c'è un narratore che deve invocare la musa perché perché non è lui il creatore della storia io dice moresco sono attraversato dalla storia la storia mi attraversa e io sono al servizio di qualcosa di più grande ecco che cos'è il viaggio ecco che cos'è nei canti del caos e in that stranding è la consapevolezza di non farcela da soli quindi non è soltanto l'idea espressa in precedenza che nessuno di noi è separato ma è anche l'indesiderabilità di essere separati non perché nessun uomo è un'isola ma perché letteralmente siamo limitati e quindi il narratore essendo limitato deve invocare la musa ha bisogno di forza per essere attraversato da quella storia e il prodotto finale tanto nel libro i canti del caos quanto nella teoria dello stato di sam porter bridges il prodotto finale è più dell'insieme delle sue parti perché gli obiettivi individuali producono un eccesso e nei canti del caos perfino per dio è così dio è un personaggio particolare dei canti del caos che non è esattamente dio perché anche dio è nell'increato e quindi dio non è il dio di spinozza c'è qualcosa di più quindi dio stesso è uno all'interno dell'uovo in cui tutti quanti ci troviamo ma non voglio andare troppo in questa su questa via perché altrimenti ci perdiamo veramente l'unica cosa che può fare il narratore in etto è sperare di non venire dilaniato nel processo è questa la cosa è per questo che dante e omero e boccaccio invocavano la musa non perché così i libri vendevano di più non perché ha un atteggiamento di posa perché radical chic invocano le muse no è perché erano letteralmente convinti che essere attraversati da quella storia da quelle idee da quell'ispirazione avrebbe fatto perdere loro il senno come a molti grandi geni è successo e invocavano la musa invocano la musa per chiedere che non sia così per dire io mi faccio tramite di questa storia io creo collegamenti non distruggermi ed è la stessa cosa che fa sam porter bridges che ha le sue muse death stranding è un racconto pieno di muse e qual è l'obiettivo di sam porter bridges ricostruire l'america attraverso i pacchi ma questo attenzione non è l'obiettivo di sam porter bridges perché questo viene raccontato proprio all'inizio il suo obiettivo è attraversare tutti gli stati uniti anzi le città unite d'america per andare a salvare ameli questo è il suo obiettivo e facendo questa cosa lui è costretto a unire le varie città per dei motivi che poi vedrete se giocherete a death stranding e quindi non è il suo obiettivo ma perseguendo il suo obiettivo porta a termine qualcosa che serve a tutti e la stessa cosa avviene per chi nelle città accetta di collegarsi alla rete delle uca inoltre in death stranding tutti quanti ogni personaggio hanno tutti quanti hanno un segreto ma tutti scopriranno che il loro segreto è inutile perché il segreto è esattamente il tentativo di far trionfare l'individualità su questa rete di connessioni su questo obiettivo comune che è un obiettivo che deve avvenire attraverso la cooperazione dei propri obiettivi ma senza segreti perché il segreto è la contraddizione di quella costruzione tutti hanno un segreto ma tutti scopriranno che è inutile avere segreti perché ciò a cui stanno partecipando è più grande e non è l'ideologia è la connessione è la sopravvivenza attraverso la cooperazione è il fare un passo indietro dell'ego non negando il proprio ego come avrebbe voluto invece schopenhauer ma dandogli il giusto spazio per cooperare insieme a tutti gli altri ci vedo un po l'etica di john rolls in questo una teoria della giustizia ed è un'idea molto molto interessante ed è un'idea anche che porta con sé il concetto di rizoma così come espresso da gil de leuze il rizoma è letteralmente la radicella che sopravvive anche quando tu togli una parte togli una radice il rizoma de leuze conia questo concetto per affermare che in realtà la società umana non è costruita come si voleva anticamente come un albero dalle radici al tronco e poi agli alberi in modo gerarchico e lineare nell'albero se io taglio le radici muore tutto se io taglio il tronco muore tutto anche le radici nel rizoma invece le cose non stanno così avendo dei gangli e delle unioni particolari e singolari ogni parte vive in virtù delle connessioni e non c'è più una gerarchia all'interno della quale ognuno comanda nei confronti del proprio sottoposto ma c'è una gerarchia basata invece sull'utile comune quindi sulla connessione l'iperconnessione queste sono idee molto potenti tanto nei canti del caos quanto in death stranding e sono idee che ci ricordano una cosa che il viaggio che tutti noi facciamo al tempo stesso esula dai nostri obiettivi singolari per connettersi a obiettivi molto più ampi ma non negando quelli che sono i nostri desideri ma dando loro il giusto posto e torniamo alla chat sono state molto silenziosi adesso molto silenziosi molto silenziosi bene ragazzi miei che corsa che corsa stasera ci sono delle domande fede sì vai c'è Locke che dice sbaglio o forse questo tipo di visione sembra ricollegare a mettere insieme un po di Leibniz e un po di Spinoza cioè l'idea che vi è venuto qualcosa di chiuso in se stesso e che contiene di sé già la sua fine come se presente e future siano uniti monade e allo stesso tempo tutto sia concatenato in sé come voleva Spinoza beh allora l'idea di panteismo di Spinoza che abbiamo già citato prima quindi il canti del caos è un'opera fortissimamente panteistica anzi direi che quasi quasi è un manifesto del panteismo contemporaneo ai canti del caos è per questo che sono così affezionato io mi sento un po panteista dentro questa idea trova assolutamente tanti richiami nel concetto di monade di Leibniz ti consiglio se vuoi avere qualche indizio in più di leggere un bellissimo libro che è di Matthew Stewart che si intitola Il cortigiano e l'eretico che racconta dell'incontro fra Spinoza e Leibniz Leibniz venne fortissimamente scosso dall'incontro con Spinoza e la sua filosofia successiva venne molto influenzata dalla visione spinoziana quindi assolutamente sì e poi c'erano due domande che prima non siamo riusciti a leggere una di Mr. Bok che questo discorso sul tempo ricorda da una parte lo specchio di Galadriel e dall'altra il dottor Manhattan di Watchmen sì interessante interessante è vero un bel parallelismo invece c'è Marcus Benedict che ti chiede sul discorso sul tempo e sulla concezione un commento sul personaggio di Hurtman? cosa ne pensi? che lo trova un personaggio estremamente romantico in un mondo non così tanto romantico in realtà il mondo di Death Stranding è un mondo romantico nel senso dell'atmosfera che c'è se tutti quanti i personaggi sono personaggi romantici Mamma lo è, Locne a suo modo lo è, anche Deadman è romantica quindi in realtà secondo me Death Stranding è un'opera molto romantica anche Hurtman lo è c'è un aspetto interessante che prima mi sono dimenticato di toccare prima dicevo il canti del caos è strutturato con questi canti di questi personaggi Death Stranding è strutturato allo stesso modo perché durante il viaggio di Sam Porter Bridges lui incontra questi personaggi e ogni personaggio ha la sua storia ha il suo canto anche Hurtman ce l'ha Hurtman è un personaggio molto particolare diciamo così c'è solo una stonatura nella narrativa di Death Stranding questo non posso non dirlo ed è il fatto che come dire ci sono dei particolari senza spoilerare ci sono dei particolari nella storia di ogni personaggio che è incredibile che non fossero emersi prima quando Sam Porter Bridges per la prima volta incontra ovviamente in videochiamata olografica questi personaggi ci sono degli aspetti di questi personaggi che quando poi vengono enucleati stai lì e dici come è possibile che non sia venuta fuori prima questa cosa perché secondo me questo è l'unico difetto narrativo di questo gioco no l'unico cazzo il difetto narrativo di questo gioco è che sembra quasi che le storie dei singoli personaggi siano state appiccicate lì pensate e appiccicate questo secondo me è un problema credo però dall'altra parte sia anche dovuto al fatto che il mezzo videoludico impone di strutturare la narrazione in questo modo qua infatti è un difetto che tantissimi videogiochi hanno però il personaggio di Hartman sicuramente molto 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 interessante direi che possiamo andare avanti ci siamo? quindi andiamo avanti col quarto capitolo molto bene molto bene a dopo Fede a dopo allora siamo al capitolo quarto se evito di fare danni ok capitolo quarto la possibilità lettura da pagina 837 raga sapete quanto ci ho messo oggi a scegliere le letture? voi non avete idea cazzo non avete idea cazzo quarto capitolo la possibilità catastrofe dell'inizio ma non eravamo alla fine e non doveva esserci Dio a questo punto perché vi aspettavate di sentirgli dare l'annuncio come un qualsiasi speaker pubblicitario impettito di fronte a una telecamera col gelato in mano vi aspettavate di leggere le sue parole direttamente su carta qui come se niente fosse con i vostri occhi ma cosa credete che Dio adesso si metta a scrivere la sua parola crea il vuoto noi siamo dentro quel vuoto riempiremo quel vuoto il death stranding la sua parola crea il vuoto adesso tutto è immobile immobilizzato che cosa succederà d'ora in poi l'annuncio sta per essere dato è in corso e forse proprio perché è in corso che non siamo in grado di udirlo che lo spazio si è immobilizzato il pianeta sta veramente per essere venduto è già stato venduto forse tutto quello che è successo e che succederà ancora qui dentro è oltrepassato dallo spostamento supersonico dell'annuncio forse l'annuncio è addirittura già stato dato fin dall'inizio e noi ci troviamo in una condizione mai vista prima su questo piccolo pianeta su cui è appena passato lo tsunami di una simile onda e cosmica sismica e tutto è ormai oltrepassato per sempre e non sappiamo neanche più se questo mondo c'è ancora e chi apparterrà d'ora in poi a chi appartiene già adesso che cosa diventerà nel futuro come verranno riorganizzate le sue strutture intime le sue fibre le sue proiezioni perché tutto in dio è coincidenza e ogni cosa nel momento in cui nel momento stesso in cui è pensata è avvenuta credetemi io ne so qualcosa forse è stato giocato tutto in due o tre punti così evidenti da risultare invisibili mentre eravate trascinati da tutt'altra parte leggevate una cosa completamente diversa da quella che avevate davvero sotto gli occhi quando è avvenuta se è avvenuta la transizione che vendita del pianeta è avvenuta può avvenire nello spazio e un tempo immobilizzati o può avvenire solo nello spazio e tempo immobilizzati qual è stato il momento esatto all'inizio quando all'account venne inserito quel filo dentro la testa quando lo spazio si immobilizza quando il sovrano pedala sulla cyclette quando Elvis II scioglie la chiesa e si accartocciano e crollano una dopo l'altra su se stesse tutte le altre strutture umane biologiche culturali sociali le strutture delle nazioni gli stati gli imperi economici tecnologici militari forse questo pianeta è già stato venduto sotto il nostro naso e non ce ne siamo neppure accorti siamo ancora dentro la torsione di quell'unico istante ed è forse da secoli da millenni che spazio e tempo sono immobilizzati come testimoniano tutte le costruzioni e le statue di pietra e le visioni raffreddate di incendi umani e di orde nomadi e le antiche muraglie che fronteggiano immobili lo spazio e il tempo immobilizzati non lo so che cosa ci sarà d'ora in poi perché ci troviamo dentro una cruna che si restringe sempre di più e non abbiamo idea di cosa ci sia dall'altra parte sarà tutto un andare e un vorticare di notte nel buio nello spazio immobilizzato nel tempo esploso ci arriveranno ci stanno già arrivando bagliori cerebrali e prefigurazioni e leggende di quanto è successo fin dall'inizio qui dentro di quanto succederà non ci si riesce a vedere bene perché lo spazio è fermo perché il tempo è fermo ma perché è fermo? perché ci stiamo avvicinando alla velocità della luce? perché la massa inerziale del campo aumenta fino a diventare infinita alla velocità della luce? d'ora in poi ci saranno solo ondate sempre più anticipate torsioni perché c'è un punto che ancora prima e tutto fugge irresistibilmente verso l'origine di questo Big Bang nel cosmo tutto ciò che non è avvenuto non può che essere avvenuto questa è un'idea assolutamente strana da esprimere però un'idea logica se viviamo in un tempo infinito nel senso che contiene tutto che è ciclico ma la materia al suo interno è finita e quindi le particelle che compongono la materia e l'antimateria sono in numero limitato significa che le combinazioni possibili di quella materia sono già state tutte verificate si sono già verificate infinite volte e infinite volte altre si verificheranno e quindi tutto quello che non è avvenuto non che non sia possibile che avvenga ma che non è avvenuto in questo universo è avvenuto inevitabilmente nulla di ciò che è contemplabile in questo tempo può non essere avvenuto è una strana teoria dei molti mondi quella che viene espressa da Moresco e infatti in tutta la terza parte del libro noi troviamo continuamente rimandi a cose che non sono avvenute ma che comunque sono avvenute cioè possibilità che essendo possibili nella conformazione materica del cosmo non si sono verificate in questo cosmo ma si verifichano in quello successivo Big Bang e Big Crunch continuamente l'espansione come se l'universo fosse un continuo respiro un polmone che ripresenta sempre le stesse combinazioni della materia e il fatto che io nella mia coscienza non veda una possibilità non significa che quella non si sia verificata non esiste un fuori di nuovo perciò tutto ciò che non è avvenuto non può che essere comunque avvenuto già avvenuto e avverrà di nuovo nei canti del caos gli increati quelli che vengono denominati increati erroneamente potrebbero essere non nati ma solo di primo acchito vi leggo un pezzo molto breve ma straordinario che si connette in modo spettacolare a Death Stranding ed è questo a un certo punto si aprono virgolette ma che qui dentro è questo se noi non ci siamo loro penseranno se non saranno se non increeranno se non siete riusciti a trovare un posto anche per noi se i nostri nomi non ci saranno i nostri popoli non ci saranno noi veniamo dentro senza permesso anche qui dentro perché non siamo qui dentro la nostra presenza porta accusa persino a ogni cosa increata che c'è qui dentro prima ancora che ci annienterà increerà prima che sarà che saprà questa sembra letteralmente una frase espressa dalle cc dalle cia scusatemi di Death Stranding le creature che stanno al di là le creature arenate quelle che stanno nel regno dei morti ma che stanno facendo di tutto per entrare nel mondo dei vivi lo smottamento del Death Stranding questo evento catastrofico che è il collimare dell'universo dei vivi e di quello dei morti è letteralmente accompagnato da questa frase ma che dentro è questo se io non ci sono il regno della possibilità nei canti del caos è il regno di tutto quello che avviene che avverrà e che è avvenuto e in effetti noi potremmo pensare che questa voce che abbiamo sentito dai canti del caos provenga da i bambini che non sono mai nati dagli avvenimenti che non sono mai accaduti ma non sono mai accaduti soltanto nel ciclo di cause e conseguenze che noi stiamo vivendo ma che non significa che non ci siano perché tutto il pensabile tutto il possibile è necessariamente avvenuto di nuovo è una teoria dei molti mondi ogni nostro gesto porta con sé delle conseguenze ma quelle conseguenze sono molteplici ed è come se ogni possibile conseguenza dei nostri gesti si sia effettivamente verificata è la teoria dei molti mondi legata per esempio all'interpretazione quantistica della teoria di copenhagen della lettura di copenhagen quindi l'idea che di fronte a ogni possibilità quantistica ci sono letteralmente due universi che si separano il canti del caos è una costruzione panteistica proprio perché tenta di dire nel tutto ogni possibilità trova la sua dimensione e in questa parte limitata della mia vita magari questo avvenimento non c'è stato questa persona non c'è stata ma c'è comunque stata perché noi siamo dentro a qualcosa che tiene dentro di sé ogni possibilità tutti noi siamo increati perché non siamo separati la mancanza di separazione è ciò che ci permette di dire in questo universo in questo cosmo ogni possibilità trova la propria dimensione si concretizza inevitabilmente ed è una cosa molto distante di nuovo dal nostro modo di pensare ma tanti tantissimi sono i pensatori filosofi che ne hanno parlato e poi vedremo alcuni di questi è il grande tema dei canti del caos questo il tema più sfidante più difficile dove è finito tutto quello che non è mai avvenuto è un richiamo all'eterno ritorno di Nietzsche Nietzsche quando afferma appunto la grande visione nella gaia scienza vuoi tu che ogni istante che hai vissuto ritorni infinitamente così come è tornato infinite altre volte e l'idea è proprio quella espressa prima cioè in un tempo ciclico ovvero infinito la materia finita deve accadere ogni combinazione è inevitabile che accada anche la più improbabile anche se per me è inimmaginabile ogni vita che non è nata in realtà è nata e ogni vita che se n'è andata è già nata e vissuta infinite volte e il fatto che la mia soggettività sia così limitata non significa che tutto quello che ho visto sia ciò che c'è stato ed è anche un richiamo a Borges Borges che ha scritto dei racconti straordinari chiedendosi dove sono tutte le possibilità che avrei potuto incarnare dove è il me stesso che ha combattuto in guerra il me stesso che è morto a vent'anni dove è il me stesso che ha fatto il fabbro dove è il me stesso che non è mai nato io non sono mai nato tu non sei mai nato infinite volte infinite corsi storici infinite possibilità in cui tu non sei mai nato tu non sei mai nata infinite possibilità in cui io e te non ci siamo mai incontrati in cui i cogito studio non si sono verificati infinite altre volte in cui ci sono ma sono crollati speriamo non sia questa speriamo non sia adesso ma il punto fondamentale è che ogni possibilità trova la sua incarnazione è inevitabile in un tempo ciclico e la stessa cosa accade in Death Stranding anche in Death Stranding questo è il tema fondamentale e il tema fondamentale infatti è quello legato ai BB i BB i Bridge Babies che stanno fra i mondi e che non hanno alcuna possibilità in questo mondo in questo mondo il Bridge Baby che è considerato un oggetto un Odradec un aggeggio e che quindi va distrutto quando non funziona più e invece Sam Porter Bridges che lo guarda negli occhi e intuisce che c'è una possibilità anzi no c'è già stata la possibilità per quel Bridge Baby così come per altri Bridge Babies allora vi leggo un altro pezzo che ci permetterà di fare un ulteriore passo nella comprensione di questo punto che lo so è un punto complicato ma è un punto necessario questo che vi leggo è il canto dei neonati strappati dal vento sentiremo i nostri corpi non ancora sedimentati sganciarsi dalle bolle di carne piene di arti che ci tengono ancora stretti inglobati i nostri progetti di teste da quelle sfere piene di latte contro le quali erano tutti schiacciati le ventose delle nostre minuscole bocche senza gengive si scolleranno da quel grumo da cui continua a scaturire quel liquido caldo si continuerà a distinguere il suo filo nell'aria come il getto di un idrante con la canna che si srotola per conto proprio per la pressione interna dell'acqua cominceremo a volare con le bocche ancora gocciolanti allagati ci strapperà dai marsupi da quelle bare a ruote dove stavamo andagiati e con gli occhi sbarrati cominceremo ad andare senza peso nell'aria nello spazio ruotandoci dentro con gli occhi chiusi come in una nuova placenta come in sogno ci strapperà fuori fin dall'interno degli uteri e degli altri canali di carne dove eravamo ancora confezionati ci tirerà fuori con un tremendo risucchio assieme al filo contorto dell'ombelico alla massa astratta della placenta cominceremo ad andare tutti raccolti su noi stessi come dei piccoli astronauti di sola carne che si spostano attraverso lo spazio con i loro cavi di alimentazione la valigetta 24 ore della loro placenta in una mano in quelle zone nere e senza luce ghiacciate tra quel finimondo di corpi smisurati incendiati gambe e braccia raccolti nel nostro nuovo respiro polmonare le gemme delle nostre mani e dei nostri piedi in quel nuovo elemento germinale gemello passeremo così sopra la curvatura del mondo guardati con curiosità dagli uccelli morbidi che vanno da tutte le parti nell'aria dentro le nostre armature leggere di muco di sangue attraverseremo in un solo istante i margini della terra dell'acqua della luce dell'aria senza bisogno di messi in scena di arti ci sposteremo e ruoteremo in questi spazi di inlevitazione in annuncio scorgeremo dall'alto mille e mille teste arrovesciate a guardarci dalle torri dalle auto lanciate dalle strade coi grumi dei nostri occhi che non si distinguono ancora dalle cose guardate e questo pezzo io quando l'ho trovato oggi lo ricordavo ma ci ho messo un sacco per trovarlo è un pezzo devastante perché è così intimamente connesso all'esistenza dei BB dei bridge babies ed è così intimamente connesso al cordone umbilicale il cordone umbilicale che in Death Stranding gioca un ruolo così fondamentale il cordone umbilicale che le CA tengono per introdursi nel mondo dei vivi cercandoli spasmodicamente perché hanno bisogno di ritornare nel mondo dei vivi attraverso questi cordone umbilicali che anche i bambini portano con sé e il cordone umbilicale è un elemento centrale che in Death Stranding vedrete avrà un significato molto particolare e che di nuovo ci rimanda a quell'idea che tutto quanto è sempre intimamente connesso e questi BB che vengono strappati dai ventri delle proprie madri in coma e che grazie a questa vicinanza con la morte riescono ad essere connessi in modo più autentico al mondo dei morti così segnalando la presenza delle CA questi neonati strappati dal vento da un cielo che tutto sovrasta è un'immagine devastante ed è un cielo quello dei BB che ci richiama alle nostre responsabilità è un cielo che attraverso la cronopioggia in Death Stranding e le supercelle la cronopioggia che è questa pioggia che fa invecchiare perché è pioggia intrisa di materia chirale fa invecchiare qualsiasi cosa tocca facilitando la comparsa delle CA e le supercelle questi tornado strani di concentrazione di materia chirale che trasportano il protagonista in spiagge che non sono la sua e tutto questo ci porta a comprendere che il messaggio di Death Stranding è che quando ci dimentichiamo di ciò che non è avvenuto quindi delle nostre possibilità non avverate dei nostri sogni non perseguiti delle persone che non sono emerse per chissà quale motivo nel mondo che quando ci dimentichiamo delle responsabilità che abbiamo nei confronti di tutto quello che c'è rischiamo di venire travolti e c'è un canto ulteriore che voglio leggervi perché è intimamente connesso al canto dei bambini dei neonati strappati del vento che è il canto del cielo di merda cosa sono questi suoni che si producono all'interno del mio corpo gassoso mentre ruoto attorno a questo pianeta con la macchina primordiale dell'atmosfera corpuscoli sfegatati in sospensione nell'aria fasce di radiazione in attrazione gravitazionale fino alle estreme particelle dotate di carica elettrica nelle zone dove i gas tendono irresistibilmente a fuggire per i loro moti molecolari io stesso certe volte non riesco più a stare dentro me stesso quando tutta questa materia che sale si satura sempre più di merda che si inietta dentro di me da tutte le parti portata dagli arcoballeni dell'aria della luce io stesso non so che cos'è la mia luce come la mia presenza possa ancora venire percepita là in basso come luce a cosa devo fare da specchio qui dentro cosa volete che sia il cielo sono crivellato anch'io da miriadi di buchi di tubature io sono inorridito di stare dentro me stesso perché non anch'io il mio cielo un altro cielo perché non posso cadere finalmente sulla mia terra a volte mentre sto così tumultuosamente dentro me stesso e tutto è buio e sulla terra si cominciano ad accendere i fuochi mi domando perché sono stato preso dentro in questo modo che cosa sono qui dentro che cosa mi separa da tutto il resto e mi dà il nome di cielo mentre sono attraversato da tutte le parti e ogni microscopica parte di me stesso ogni minuscolo fotone che trasporta dentro di sé ciecamente la luce è un tutt'uno fa di me un tutt'uno con questa cosa densa che sale è la merda che si espande dentro di me e mi riempie ingravida completamente salendo dalla terra attraverso i processi di trasformazione della materia in vapore o sono io al contrario che scendo e penetro nella terra e mi conficco da tutte le parti con le mie voragini aeree e i turbini della mia luce dentro le budella di questo escremento spaziale per quanto ancora riuscirò a sostenere quest'urto spaventevole di materie che si ostinano a percepirsi in contrasto restando tutt'uno con me stesso e nello stesso tempo con ciò a cui faccio da specchio per quanto ancora resisterà questa camera d'aria che mi divide dal resto dello spazio nero e cieco e senza progetto il grido del cielo che si sente separato ingiustamente dal resto peraltro se fate manifestazioni dei Fridays for Future questo è il brano che andrebbe letto assolutamente in pubblico perché raramente è stata scritta una cosa così potente contro ciò che sale verso il cielo straordinario e direi di tornare alla chat come sta andando? molto bene bene sono contento stiamo andando molto più lunghi del previsto però abbiamo l'ultimo capitolo per le undici e un quarto abbiamo finito delicatissimo dice Mr. Bok giustamente c'è qualche qualche domanda? domanda no però ci sono un po' di considerazioni tipo Norval che tutto ciò gli ricorda molto anche Mr. Nobody beh sicuramente il discorso che ha fatto sulle possibilità è molto legato a Mr. Nobody bellissimo film peraltro quindi ottimo ottimo collegamento e poi non so se anche tu ti ricordi lì che c'è Locke che cita Philip K. Dick con la cordicella del bagno la cordicella del bagno sì anche Dick infatti è stato uno di quegli autori che hanno parlato molto delle possibilità del multiverso e via dicendo quindi sì sì assolutamente la cordicella di Philip K. Dick fantastico invece c'è Zafiroth che dice il problema è dire già venuto come anche il tempo verbale avvenuto quindi questa problematica che effettivamente possono avere i tempi verbali in una concezione del tempo come questa che è già avvenuto beh significa che avverrà di nuovo cioè il fatto che sia già avvenuto è già avvenuto infinite volte quindi in realtà non è così problematico se qualcosa si è verificato infinite volte si è già verificato infinite volte non significa che non si verificherà di nuovo e c'è Blaze che chiede si già verificherà questo potrebbe essere a costa di sembrare ripetitivo ma in tutto questo il libero arbitrio dove trova posto è un po' ripetitivo sì cioè nel senso in questa visione il libero arbitrio è una concezione molto diversa rispetto a quella che intendiamo noi è quello spinoziano la libertà non di scegliere quello che ti pare ma di volere quello che ti accade tu sei libero di desiderare quello che ti accade o di rifiutare quello che ti accade e questo fa tutta la differenza del mondo è il libero arbitrio di Nietzsche l'eterno ritorno non ti dà la possibilità di scegliere che cosa accada ti dà la possibilità di desiderare quello che sta accadendo e quella è la tua libertà fondamentalmente sei libero di vivere in modo miserabile desiderando la vita di qualcun altro o di dire di sì alla tua vita amorfati quella è la libertà quello è il libero arbitrio in questa concezione la libertà di accettare il proprio destino che non è affatto una libertà scontata ragazzi quindi è un'idea potentissima andiamo all'ultimo capitolo la morte e l'estinzione beh insomma non così finiamo in allegria raga perfetto allora dopo fede e allora andiamo a pagina 841 quinto capitolo la morte e l'estinzione no ci siamo anche noi immobili al buio in attesa non sappiamo più dove siamo chi siamo ma ci siamo al tuo fianco sotto l'urto di quello che sta passando sopra i moncherini delle nostre teste e sull'antico mondo con la sua allucinazione biologica configurata per quest'ultimo viaggio tutti schierati evocati le tue legioni i tuoi autori tutti quelli che uno dopo l'altro uno dentro l'altro uno contro l'altro hanno creato traslocato trasfigurato scopato generato annientato parliamo adesso per un solo e ultimo istante con una sola voce come un corpo in un'unica combustione in una sola fiamma mentre veniamo polverizzati e poi ricomposti da quello che sta passando attraverso i nostri precedenti progetti di corpi e scompare la nostra stessa materia di cui occupiamo per l'ultima volta il residuo gravitazionale attraversato da un'onda oscura e lucente è inconoscibile e abnorme ci presentiamo io sono il matto tutto ricoperto di ferite ematomi trasportato fin qui attraverso un'unica ellissi io sono quella puttana della musa dal corpo aperto creativo tagliato io sono il donatore di seme e softwareista io sono l'infantibile lanza io sono il vecchio dalla paresi masturbatoria io sono la donna che trema io sono il ginecologo spastico che rende spastico lo spazio e il tempo io sono principessa io sono la donna amputata io sono la bambina che vede il cielo diventare bianco io sono l'uomo che incendia le spore siamo tutti qui indistinguibili nell'oscurità più profonda oltrepassati al tuo fianco non ci riusciamo neanche più a vedere l'uno con l'altro nella luce immobilizzata voci sono immobilizzate passate oltre il falso movimento dell'economia e della narrazione privata dell'illusione e della consolazione dello spazio e del tempo siamo già tutti là siamo qui anche tu sei già qui non possiamo neanche aspettarti perché sei già qui è un'invocazione al contrario sono i personaggi i personaggi dei canti quelli che sono stati nominati sono personaggi che fanno che esprimono i canti del caos che invocano al contrario l'autore l'esatto opposto si è tutto rovesciato questo è un libro del rovesciamento che però non si rovescia e basta poi finisce in un cataclisma incredibile e ci ricorda questo brano che morte ed estinzione sono un cambio di stato non una non esistenza è impossibile che siano una non esistenza se con esistenza intendiamo tutto ciò che sta nel regno della possibilità e le possibilità sono tutte contemplabili all'interno delle combinazioni che stanno dentro questo tempo immobile questo cosmo increato siamo tutti già morti e già vivi e questa è un'idea molto interessante perché permette amoresco di fare un gioco di continuo rispecchiamento fra i vivi e i morti fra il mondo di là e il mondo di qua che poi negli increati diventerà ancora più forte e mi ricorda la mia serie preferita The Leftovers in cui alla fine dei conti la vicenda che accade in The Leftovers ovvero che a un certo punto scompare dal mondo il 2% della popolazione globale quindi 140 milioni di persone scompaiono nel nulla ne ho parlato in uno degli ultimi preferiti del mese quindi recuperatevelo per avere qualche indizio in più alla fine tutto quanto si va a riassumere in un gioco di sguardi il perduto è tale soltanto per chi ha perso ma per l'altro la situazione è completamente rovesciata il morto è tale soltanto agli occhi di chi si considera vivo e viceversa ed è proprio quello che avviene nei canti del caos in cui tu sei sempre entrambe le cose il nostro quello di considerarci vivi e non morti esistenti e non non esistenti essere e non non essere il nostro è il pregiudizio della vita in prima persona siamo intrappolati nella nostra limitatezza i canti del caos si chiamano così perché l'unico modo per rompere quella trappola è il caos non c'è altro modo che far entrare il caos dentro l'ombrello avrebbe detto il poeta Lorenz quando dice che il genio è colui che riconoscendo l'ombrello che usiamo per ripararci dal caos fa un taglio nell'ombrello ora se qualcuno durante un'acquazione taglia l'ombrello sotto a cui io mi riparo io lo corco di botte e la stessa cosa noi facciamo con il genio che cerca di far entrare un po' di caos e attenzione questo è il motivo per cui i canti del caos è un libro rifiutato insultato denigrato considerato spazzatura da tantissimi un libro che invece è originale ed è potentissimo come pochi altri libri lo sono nella nostra epoca e questo è un punto molto importante un libro che si contrappone a tutta quella letteratura da bancarella letteratura per bene la letteratura degli abattini di talento come diceva Kurt Vonnegut una letteratura spicciola fatta per vendere i canti del caos è un'opera che vuole parlare come dice lo stesso Moresco a un popolo a venire un popolo che ancora non c'è e che chissà mai se ci sarà e questo è veramente un'ispirazione una grande ispirazione nei canti del caos quindi non c'è inizio e non c'è fine il libro stesso non ha un inizio o una fine il libro stesso può essere letto in modo disordinato non è che bisogna andare per forza da pagina 1 a pagina 1100 in realtà i canti possono essere anche letti in modo disarmonico in modo sconclusionato possono essere anche letti in modo aneddotico senza un ordine ben preciso e l'inizio e la fine del libro non sono esattamente l'inizio e la fine proprio come accade con tutta quanta la trilogia quindi non c'è un inizio e una fine perché questi concetti sono approssimazioni della nostra limitatezza e alla fine dei canti del caos il protagonista il narratore che ormai non è neanche più protagonista non è neanche più narratore è una voce strana molto particolare ormai è linguaggio incarnato e basta perché verso la fine il libro si disfa letteralmente intravede il successivo universo come dicevo prima inventa un tempo verbale perché lui capisce che dopo il big crunch questa cruna che va a restringersi sempre di più questa crasi finale dell'universo questo collassare del big bang su se stesso il big crunch ci sarà un nuovo universo per dire quello che avverrà nel nuovo universo non basta più il futuro perché il futuro rimane all'interno di questo ambito di possibilità e quindi inventa un tempo verbale la scelta del doppio futuro il big bang e il big crunch questa contrazione uterina in cui tutti continuamente nasciamo e moriamo ed è un'idea questa peraltro che mi ricorda tantissimo un romanzo che io adoro che è la voce del padrone di Stalin's love lamb in cui il romanzo è un romanzo di fantascienza che racconta il tentativo da parte dell'umanità di decifrare il primo messaggio artificiale proveniente dall'universo profondo e una delle ipotesi che gli scienziati fanno visto che non riescono a capire dove comincia il messaggio dove finisce se c'è un inizio o una fine in questo messaggio potrebbe essere un messaggio come quello degli uptap o degli arrival dicevo a un certo punto una delle ipotesi è che quel rumore di fondo che è cadenzato e ritmico e quindi artificiale sia una sorta di fischio di suono che proviene dall'universo precedente come se dall'universo precedente dopo il big crunch fosse entrato nel nuovo universo un piccolo suono la testimonianza dell'universo precedente ecco i canti del caos in un certo qual modo è il tentativo di lasciare quell'eredità a coloro che ci saranno dopo il big crunch nella nuova espansione uterina dell'universo e quindi capite bene che l'unica conclusione che arriva l'unica conclusione a cui arriva Moresco è che morire tanto per un individuo quanto per un universo è continuare a esistere il fatto che la mia limitata soggettività non sia più consapevole di se stessa come io lo sono adesso se lo sono adesso è poca roba in confronto a tutto questo sommovimento continuo in cui siamo inevitabilmente presi e non intrappolati in Death Stranding viene espressa un'idea molto molto simile al punto che alla fine l'estinzione perché Death Stranding racconta l'estinzione non dell'umanità non dei delfini ma dell'intera vita sul pianeta Terra l'estinzione è anche una grande opportunità perché Death Stranding questo è un videogioco molto ambientalista è anche molto acuto dal punto di vista dell'ambientalismo sia in Death Stranding che in Canti del caos l'estinzione è inevitabile ma alla fine di tutto perché alla fine l'entropia vince su ogni cosa ma è l'affacciarsi sull'estinzione che può dare alla vita la spinta per reagire e quindi l'estinzione è una spinta è un'opportunità è un non voglio andarmene in quella buona notte infuriati contro il morire della luce come dice il poeta e quindi questa idea l'estinzione la morte è la spinta per continuare ancora per un po' perché in fin dei conti ciò che si dice nei Canti del caos è in Death Stranding è che pur in tutta questa insensatezza pur in questa increazione pur in questa sofferenza in questa insensata crasi fra mondo dei vivi e mondo dei morti in questo caos vale la pena reagire per ritardare l'estinzione oppure come nei Canti del caos per lanciare una voce oltre il limite di quello che pensavamo possibile il doppio futuro di Moresco non è un artificio retorico è l'unico modo per far arrivare la sua voce di là lasciare una traccia una testimonianza ecco lasciare una testimonianza lasciare una traccia dire a quelli che verranno dopo guardate che noi c'eravamo e magari all'interno di quel c'eravamo dire anche abbiamo fatto così ci siamo stati e abbiamo sbagliato lì abbiamo commesso errori abbiamo fatto cazzate non fatele anche voi questo è Death Stranding questo è i Canti del caos è l'ingenuità dello sforzo umano guardare oltre quei limiti invalicabili e dire io posso superarli senza questo saremmo già estinti e grazie a questo invece riusciamo ad avere ancora lo slancio vitale che ci permette a volte di produrre opere che vanno oltre i limiti di quello che riteniamo normale opere come Death Stranding opere come i Canti del caos prima di tornare alla chat qualche parola di conclusione poi arrivo a leggervi queste sono opere che io come dicevo ho sentito intimamente connesse se sui contenuti sono cauto io ho cercato ho fatto uno sforzo per trovare collegamenti sono opere ovviamente sono assolutamente certo che Hideo Kojima non conosce Antonio Moresco e viceversa quindi non credo non sto dicendo che si siano ispirati l'uno all'altro non è così quindi se sui contenuti sono cauto e il mio è stato un lavoro interpretativo sulla forma no sono due opere genialmente ingenue e qui voglio concludere dicendo questo sono opere che hanno dei difetti devastanti sono opere logorroiche i Canti del caos l'avete sentito scelte retoriche da un certo punto di vista anche discutibili la continua ripetizione di parole come in creato l'annuncio e via dicendo la continua riproposizione della stessa frase però cambiando delle cose elemento che in questo diventa devastante cioè se avete ritenuto un po' ripetitiva alcune pagine che vi ho letto qui dei Canti del caos questo diventerà proprio la fiera di quella ripetitività quindi sono opere logorroiche e lo è Death Stranding Death Stranding per me poteva tranquillamente durare 15 ore in meno e non perdere un'oncia del suo valore sono opere alienate e alienanti perché si proiettano in concezioni talmente al di fuori della normalità che stai lì ogni tanto e dici ma che cacchio si è fumato questa persona per tirare fuori questa idea e al tempo stesso ti fanno venire in mal di testa su un sacco di cose e sono opere colpite da una sana e malsana ambizione di raccontare cose troppo grandi io ho cercato stasera di darvi un barlume di quelli che sono i temi ma fidatevi fidatevi i temi sono molto di più per evitare di incorrere in ban io ho lasciato perdere le pagine più sadiane di Moresco dei Canti del caos ma ci sono pagine veramente difficili che pongono temi veramente veramente importanti e molto profondi e se l'opera si è all'altezza di quei temi beh quello lo decide il lettore ovviamente la stessa cosa con Death Stranding ci sono dei temi incredibilmente vasti che incontrerete soltanto giocandoci ma ma e tutto questo tutto questo fa essere queste due opere ingenue fottutamente ingenue cioè ingenue nel vero senso della parola sembrano bambini dalla bocca larghissima che si fanno attraversare da idee fanciullesche ben scritte e raccontate ma ricordatevi che l'Iliade la Divina Commedia i viaggi di Gulliver hanno fatto lo stesso effetto quando sono comparsi e non solo vennero molto spesso rifiutate soprattutto la Divina Commedia o anche Gulliver ma 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 erano fastidiose per i contemporanei la Divina Commedia fece male alla reputazione di Dante e fece molto molto incazzare quasi tutti i suoi contemporanei Gulliver la stessa cosa portò alla quasi pazzia il povero Jonathan Swift e potremmo fare un sacco di esempi di opere che per i contemporanei furono inaccettabili e noi oggi guardiamo come se fossero una cosa irrinunciabile perché sono irrinunciabili perché sono quella voce che ha superato i limiti ed è arrivata quella voce che è arrivata oltre i confini di quello che quei contemporanei ritenevano pensabile e guarda caso arrivano fino a noi un mondo diverso un mondo che rispetto a quello in cui quelle opere furono partorite è alieno è impensabile questa è l'ingenuità della narrazione questo fa essere i canti del caos Death Stranding due favole per il terzo millennio favole nel vero senso della parola storie che ingenuamente ci accompagnano dentro meandri di pensieri di cui non pensavamo di avere la necessità e che invece a un certo punto ci cambiano lo sguardo in modo talmente profondo da cambiare la prospettiva su alcune cose molto concrete del mondo questo lo può fare soltanto l'ingenuità dell'artista contrapposta al cinismo di chi scrive opere per colpire l'animo dei contemporanei e invece che ci piaccia o no a volte una volta al secolo due volte al secolo arriva qualcuno che produce l'opera che parla ai popoli a venire secondo me sono abbastanza sicuro con i canti del caos Death Stranding è sulla buona strada e con uno sguardo giusto possiamo farne veramente qualcosa di utile per noi stessi e spero di aver portato a degna conclusione questa serata e quindi torniamo alla chat c'è Termofilius che chiede quindi l'evoluzionismo è l'universo che vuole se stesso vuole una parola grossa l'evoluzionismo l'universo l'evoluzionismo è il allora mettiamola proviamo a ragionarci in termini moreschiani ok lui in realtà parla dell'evoluzione all'interno del libro quindi insomma non sto qua a recuperarti la pagina perché ci metterei 40 minuti soltanto per trovarla però lui parla dell'evoluzione cos'è l'evoluzione l'evoluzione in realtà è un'illusione se il tempo è fermo allora significa che già tutto si è evoluto evoluzione è il modo con cui noi ci figuriamo un movimento che in realtà non è un movimento è la goccia d'ambra è come se in quella goccia d'ambra tipo non so le specie fossero un grande flusso che cambia ma se tu prendi il tempo come immobile quella cosa è già tutta avvenuta questo mi verrebbe da rispondere l'opera migliore da leggere in questo senso è Henri Bergson l'evoluzione creatrice perché Bergson è perfettamente consapevole e lo dice noi vediamo l'evoluzione in quel modo lì perché noi non conosciamo la totalità del tempo stop per noi il tempo scorre perché perché lo viviamo così ma lo viviamo così perché siamo limitati non perché il tempo sia così però ecco sì vuole magari non è il termine giusto e poi c'è l'idiota dell'orrore che pensa bel nome esatto io nell'universo moreschiano avevo inteso l'increazione come superamento dell'infinito cerchio di vita e morte create tu cosa ne pensi allora superamento sì ma non perché la vita ma perché sono la stessa cosa cioè il superamento della vita della contrapposizione vita e morte è tale perché sono la stessa cosa l'increazione è quella roba lì l'increato di nuovo ovviamente attenzione questo è importante siamo nell'ambito delle interpretazioni ok questo credo che sia abbastanza importante da dire però il punto è il seguente leggendo moresco è chiaro che quando lui parla dell'increato lui sta parlando esattamente del del tutto cioè dell'assoluto per usare un termine filosofico cioè di quell'elemento del mondo che in realtà è il mondo e che è increato perché perché non è stato creato da nulla perché come diciamo la creazione è separazione ma la totalità non può essere separata da alcunché e quindi l'increato è la natura chiamala come ti pare da questo punto di vista infatti il superamento della morte e della vita è l'idea che sono la stessa cosa abbiamo finito abbiamo finito madonna santa ragazzi è stata è stata un'avventura e alle 23.09 grazie a Kalel che ci ha aspettato con 100 spettatori grazie mille veramente alle 11.09 siamo a quanti siamo? 260 medi? fantastico fantastico beh siete bravi ragazzi sono molto contento io adesso già che ci sono condivido in chat il link dei canti del caos e così se vi va di leggerlo lo prendete dal nostro link di affiliazione quindi tac allora adesso ve lo condivido in chat tranquilli e poi ovviamente se invece state ascoltando in differita eccolo qui tac in chat quello lì è il link se state ascoltando in differita invece il link per il canti del caos death stranding e qualche altra opera che ho citato la trovate in descrizione sia il podcast che in video è stato un viaggio è stato un viaggio e spero che sia stato in archi ovviamente in una libreria però tieni conto che se lo compri dal link che ti abbiamo messo noi percepiamo il 10% visto che stasera abbiamo fatto il lavoro dei librai ci abbiamo recensito tante opere letterarie puoi anche pensare di prenderlo da lì così noi ci guadagniamo qualcosa senza farti spendere niente in più quindi io sono molto contento di aver fatto questa avventura con voi spero che vi siate goduti il viaggio spero di essere stato abbastanza chiaro è stato molto difficile è stato molto difficile rendere chiaro quello che avevo in mente e quello che avevano in mente questi due esseri umani però ci tenevo ci tenevo perché insomma era una cosa che volevo fare da tempo Fede a te come è andata? mi deludi perché vuoi chiarezza in questa discussione di caos no è impossibile impossibile però deve essere caotica provo ad aggrapparmi un po' di chiarezza è la bellezza dell'entropia letteraria cazzo 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 brutale brutale questa e con questa chiusa dell'entropia letteraria direttamente dal regista anti-entropico dei Cogito Studios io vi auguro una buona serata buonanotte domani come sempre abbiamo due appuntamenti alle 12 rassegnato stampa e alle 18 cogitata con Elia Bombardelli matematica filosofia scuola e lucubrazioni un altro appuntamento da non perdere grazie a tutti quelli che sono abbonati grazie a strappattone per i 150 bit grazie a chi ha fatto i ride grazie a siete in tantissimi ad esservi abbonati grazie mille veramente e niente io mi sono divertito un sacco chissà se riuscirò a dormire questa notte potrebbe essere non facile ma ci proverò e voi mi raccomando non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa ciao 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 ciao